Musica Nuovo appuntamento con le notizie di oggi a nord-est. Aumentano le persone positive di coronavirus nelle case di riposo e l'azienda sanitaria Giuliano Isontina avvia un piano straordinario sul territorio mentre procedono i lavori per la nuova terapia intensiva al dodicesimo piano di Cattinara a Trieste. Sull'azione dei sanitari continua però a pesare la carenza di dispositivi di protezione. Ieri ne sono state spedite poche migliaia e il vicepresidente con delega della salute Riccardo Riccardi denuncia a molta distanza tra fa bisogno e disponibilità. Nel frattempo arrivano a 1139 i casi positivi, l'aumento giornaliero di 147 unità è il più consistente da inizio epidemia. I morti 70 con una crescita di 6 mentre i ricoverati sono 252 pazienti in rianimazione. Secondo i dati forniti da Asugi sono 31 gli ospiti positivi delle residenze triestine per anziani. 25 casi riguardano la struttura comunale di Casa Serena ma l'azienda ha individuato 6 ammalati anche nelle residenze del distretto numero 2 dove si trova l'ITIS che vede salire gli ospiti colpiti da 2 a 6 e registra la morte del primo di essi mentre i due operatori sono in isolamento da alcuni giorni dopo un tampone positivo. Secondo i vertici della Asugi nel distretto 2 ci sono 4 residenze con casi confermati ma non è dato sapere quali. La notizia di ieri di un anziano contagiato è morto nei giorni scorsi nella RSA Mademar. Il Veneto va verso i 7.000 casi di coronavirus accertati raggiungendo quota 6.935, 353 in più rispetto alla rilevazione di ieri pomeriggio. Sono 287 morti con 14 nuovi decessi registrati questa mattina. Le persone in isolamento tra contagiati e loro contatti 17.457. I ricoverati in area non critica sono 1.447, 11 in più rispetto a ieri pomeriggio. Quelli in terapia intensiva 326, più 8. I dimessi 508. Rimane fermo il cluster di Voe Uganeo mentre la provincia con il maggior numero di casi è Padova, escluso Voe, con 1.693 e con il maggior incremento su ieri, ovvero sia un più 93. Causa emergenza da coronavirus in Friuli, Venezia e Giulia, da ieri la chiusura di tutte le fabbriche non legate a prodotti essenziali è diventata una realtà e contemporaneamente nelle stanze della regione si poneva un quesito. Con il fermo dell'economia caleranno gli introiti per il bilancio regionale che in virtù delle compartecipazioni sulle imposte a partire dall'IVA paga in autonomia i costi del sistema sanitario, ormai al 60% del bilancio regionale, dei trasporti regionali, degli enti locali. Ed ora la linea passa alla redazione di Treviso. Ortofrutta rincari da coronavirus a Treviso e il settore cala del 25%. Volpato del nord-est mercati, dice, la fornitura è garantita nella sua totalità. I clienti stiano tranquilli. Aumenti lievi sulle vendite incidono mercati e ristoranti fermi. Coronavirus il giorno più nero, 37 vittime in Veneto, con il contagio e le vittime, il bollettino del 25 marzo, dice proprio questo. Le ultime notizie sono sul gazzettino.it. È stata una giornata tragica per la regione. Dopo le 21 vittime della notte, altre 16 hanno perso la vita in meno di 9 ore dalle 8 di mattina fino alle 17 e quindi porta il totale a 37. Coronavirus nelle case di riposo del Veneto, 336 ospiti e 211 operatori positivi. 30 le vittime, uno dei fronti più esposti nella guerra al Covid-19. La situazione è suddivisa a seconda delle varie unità sanitarie locali della regione. Un male incurabile, un commercialista e padre di due figli e muore a 50 anni. Dario Cervi, originario di Montebellune, è stato stroncato da un tumore scoperto un anno fa. Inutile le cure, la socio senior dello studio di commercialisti Conte e Cervi. Coronavirus ha attivato il supporto telefonico per le famiglie di Cornuda. Alvia un nuovo servizio telefonico per offrire alle famiglie di Cornuda un dialogo ed un confronto in questo momento di grave emergenza sanitaria nazionale. Rosario Moreno, Treviso per Radiodiffusione Europea. Io amo il Friuli Venezia Giulia. Io resto a casa. Io amo il Friuli Venezia Giulia. Io resto a casa. Io amo il Friuli Venezia Giulia e io resto a casa. Io amo il Friuli Venezia Giulia. Come tutti voi, io resto a casa. Io amo il Friuli Venezia Giulia. Io resto a casa. Amo il mio paese. Amo il Friuli Venezia Giulia. Io resto a casa Io amo il Friuli Venezia Giulia, io resto a casa Fatelo anche voi Io amo il Friuli Venezia Giulia, io resto a casa Compi anche tu un gesto d'amore, resta a casa A Padova di mascherine ne sono state bruciate 70.000 due giorni fa Erano quelle donate dalla Cina, riutilizzabili più volte Diversamente da quelle prodotte da Grafica Veneta Due milioni di pezzi consegnati venerdì scorso Che sono invece USA e Getta In Friuli Venezia Giulia l'operazione di distribuzione delle mascherine Alla popolazione a domicilio, casa per casa Informa la regione, va invece più a rilento Martedì la prima tranche con una partenza da Socchieve Paesino carnico di 800 abitanti Di cui 7 positivi da Covid-19 Ieri un'altra distribuzione a San Martino al tagliamento 1.400 abitanti, 16 positivi Destra tagliamento in totale Nei due comuni friulani sono stati recapitati 5.000 pezzi Il primo atto del progetto varato sabato scorso Rifornire di mascherine lavabili e riutilizzabili Attraverso i volontari della protezione civile Tutti i cittadini con l'obiettivo di limitare i rischi da contagio Trieste, sono stati oltre 70 nella giornata di ieri gli interventi dei vigili del fuoco Per mettere in sicurezza finestre infissi e grondaie pericolanti O per sgomberare la strada dai rami precipitati Causa Bora 50 solo nelle ultime 24 ore La Bora, come annunciato dagli esperti Meteo, non dà tregua Le raffiche hanno raggiunto i 100 km orari Ma secondo le previsioni dell'Osmer Oggi il vento si intensifica Fino a superare i 120 km orari Nella notte il picco registrato dell'Osmer È stato di 112 km orari Oltre a infissi, rami e alberi Le squadre dei pompieri hanno dovuto correre da una parte all'altra della città Anche per sistemare diverse coperture di tetti Che si erano improvvisamente staccate dalle abitazioni Nella mattinata di oggi Vigili urbani hanno chiuso via Frausin Per permettere la messa in sicurezza della copertura di un condominio Tre barche in fiamme a Trieste Accorrono i vigili del fuoco E domano un incendio L'autobotte e il funzionario di guardia dei vigili del fuoco del comando provinciale Sono intervenuti in riva Giovanni da Verrazzano Per un incendio che ha coinvolto tre barche Situate su dei cavalletti per la manutenzione L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco Utilizzando la schiuma dei mezzi antincendio Le cause del rogo sono in fase di accertamento Danni ancora da quantificare In chiusura previsioni meteorologiche Per quanto riguarda il pomeriggio di oggi Ancora vento sostenuto di bora Sulla costa da nord-est in quota Sui monti moderato in pianura E nelle valli per quanto riguarda il Veneto Nel costo del pomeriggio Ingresso di nuvolosità irregolare Dai settori orientali fino a cielo In prevalenza nuvoloso Previsioni a cura di ARPA FWG Meteo e ARPA Vagenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale Del Veneto Per il momento dal nord-est è tutto Appuntamento alla prossima edizione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti